Benvenuti ad Acqua e Sapone News! Questa sera fare un annuncio sconvolgente! Mi sposi! Vaporizzati! Eglissa, ti diamo subito la linea a costanza... Caracciolo! Grazie ragazzi! Oggi vi presento Clean Twist di Lifehite, in offerta a 19,90€ per pulire ogni tipo di pavimento senza piegarsi. Manico telescopico, secchio con strizzatore e lavapavimenti microfibra. Acquista Clean Twist e hai subito in omaggio il piumino cattura polvere Duster XL, compatibile con il sistema Clean Twist. Clean Twist, garantito tre anni! E adesso parliamo di Neutromed che rispetta il pH fisiologico della pelle. Tutta la linea di detergenti intimi Neutromed con complesso micellare è in offerta. E solo da Acqua e Sapone, con l'acquisto di due detergenti intimi con complesso micellare oppure di un intimo expert, in omaggio una confezione di salvietine intime Neutromed. È il momento dell'annuncio sconvolgente! E dai eh! Mi sposo! No! Sì! Ma come la sposi? Ma perché non mi posso sposare? Sì ma mi dai molto dolore! Acqua e Sapone, oltre la convenienza!